Sarà Brandon Wood il point man titolare della Cegas da qui a fine campionato, con la speranza che sia proprio l'ex Michigan State a guidare la pallacanestro Trieste alla salvezza. Una decisione che arriva dopo un test chiave come quello di ieri a Brescia, in cui l'americano ha segnato 23 punti, dimostrando grande personalità e costruendosi da solo alcuni dei tiri decisivi per la rimonta, sfumata solo di un soffio nel finale. Stamani la riunione tecnica tra il GM Bocchini e l'allenatore Dalmason che hanno deciso per la conferma. Uwe rimane ancora sotto contratto, ma è evidente come si conti di concludere al più presto l'operazione con Iesi, che spera di riabbracciarlo al più presto per sostituire Goldwire, ma soprattutto sarebbe pronta a pagare a Ryan l'intera porzione di ingaggio e rimanente da qui a fine stagione. E visti i tempi che corrono, anche se si tratta di una diretta concorrente per la salvezza, non ci si può permettere di fare troppo i difficili. Quanto alla partita di ieri, la Cegas è riuscita per l'ennesima volta a rimettere in piedi una gara che sembrava chiusa dopo pochi minuti. Dopo il buon inizio sull'asse Wood-Carra di Liegro, infatti, i Bresciani sembravano poter dilagare con le triple di Lofsky e Slay e le accelerazioni di Giddens 28 a 16 all'ottavo minuto. Trieste però non ha abbassato la testa, eppur rimanendo sotto nel punteggio e subendo un'altra frustata potenzialmente decisiva nel terzo quarto, con gli Iesini avanti di 16, è riuscita ancora una volta a reagire. Anche Erris e Candussi hanno messo mattoni importanti sotto le plance e Wood ad attaccare il canestro a ripetizione, inventando canestri o smarcando i compagni. Si è arrivati così a pochi secondi dal termine, con i Bresciani avanti di soli due punti. Quindi la rimessa decisiva. Di Liegro si smarca millimetricamente, fallisce il lay-up di un soffio, ma ci sono due liberi per andare ai supplementari, con due secondi sul cronometro. Fallito il primo, è già festa a Brescia. Meglio sbagliare il secondo per tentare il lay-up della disperazione, ma la mattonella di Dein si spegne nelle mani dei padroni di casa e con lei la speranza di portare a casa la vittoria.